Canto 31 Canto 31 Canto 31 Canto 31 E facendo tremare di religiosa paura le gole dei monti e quanti lo dirono. Mi girai un poco e mi parve di veder subito delle alte torri. Per cui, maestro dimmi, che città è questa? Poiché vuoi vedere con lo sguardo troppo lontano nelle tenebre, può avvenire che nel raffigurarti mentalmente ciò che ti è parso di vedere, tu ti confonda. Vedrai bene se avrai la pazienza di giungere fin là come, da lontano, i sensi si possano ingannare. Perciò affrettati. Poi con affetto mi prese per mano e mi disse Prima di essere più avanti ed affinché il fenomeno ti appaglia meno strano, sappi che quelle che vedi non sono torri, ma enormi giganti che stanno intorno all'argine dal quale sporgono dall'ombelico in su, avendo i piedi in fondo al pozzo. Come quando la nebbia si scioglie e lo sguardo pian piano riconosce ciò che quel vapore, che rende densa l'aria nasconde, così attraversò l'aria pesante e scura, avvicinandomi sempre di più alla riva. Svaniva l'errore su quello che vedevo, scorgendo appunto meglio. Nello stesso tempo, però, cresceva in me la paura per quello che man mano stavo individuando. Infatti, così come sulle rotonde mura Monteriggioni si circonda di alte torri, proprio come delle torri gli orribili giganti, che Giove, quando tuona, ancora minaccia essendosi essi ribellati a lui, sovrastano l'argine che circondava quel pozzo per mezza altezza del loro corpo, poggiando i piedi sul fondo del pozzo stesso. Ed io scorgevo già la faccia di uno di essi, e le spalle, il petto, e gran parte del ventre, e le braccia stese giù per i fianchi. Certo, la natura fece bene quando smise di creare tali esseri viventi, poiché tolse di mezzo dei guerrieri paurosi esecutori di stragi. E se invece la natura non si pente di creare esseri colossali come elefanti e balene, essa appare più giusta e più moderata a chi guarda bene. Infatti per i giganti è un'altra cosa, poiché quando in loro si aggiunge la forza fisica, la volontà specifica di fare del male, allora non c'è più scampo per nessuno. La sua faccia mi sembrava lunga e grossa, come la pigna che è posta nell'atrio della Basilica di San Pietro a Roma, e sembrava alta circa 4 metri, e le altre parti del corpo erano ad essa proporzionate. Si può quindi pensare che quel gigante fosse alto circa 25 metri, così che la riva del pozzo che copriva quei giganti dal mezzo in giù ne lasciava vedere una gran parte superiore. Infatti, tre abitanti della Frisia, che avevano la fama di essere altissimi, non si sarebbero vantati, l'uno sulle spalle dell'altro, di arrivare alla sua chioma, e così io vedevo un pezzo di corpo lungo circa 7 metri dall'altezza della clavicola, dove si affibbia il manto. Raffael, mai, amac, zabi, almi. La feroce bocca cominciò a gridare, con parole incomprensibili che certo non sembrava emettere comunque dolci salmi o parole sante. Ed il duca mio, rivolgendosi verso di lui, Anima sciocca, accontentati del corno e sfogati con quello, quando ti arrabbi o ti assale qualche passione. Cerca sul tuo collo e troverai la cinghia che ti tiene legato, o anima stolta, e troverai anche il corno che ti sta appeso al collo e che forma una striscia sul tuo stesso petto. Poi Virgilio mi disse, Costui è Nembroth, ed egli stesso praticamente, con quelle incomprensibili parole, accusa se stesso del suo peccato. Infatti egli fu il primo re di Babilonia e l'ideatore della torre di Babele per impedire la costruzione della quale Dio confuse le lingue. E lui, appunto, come hai potuto sentire, parla una lingua incomprensibile. Ecco dunque perché ti dico che egli stesso si accusa di quel malvagio pensiero, a causa del quale tra gli uomini non si usa più un unico linguaggio. Ora comunque lasciamolo stare e non parliamo a vuoto, perché anche per lui è inutile qualsiasi linguaggio, così come il suo è incomprensibile ad altri, poiché nessuno può sapere che cosa significhino le sue strane parole. Procedemmo oltre, verso sinistra, ed ad un tirar di balestra trovammo un altro gigante più fiero e più grande. A legarlo non so che maestro fosse stato, ma egli aveva il braccio destro più pericoloso avvinto dietro la schiena e quello sinistro bloccato davanti al petto da una catena che per la parte che io potevo vedere faceva cinque giri. Questo superbo volle provare la sua forza contro Giove, perciò ha questa ricompensa di essere qui e di essere legato. Si chiama Fialte, ed è fra i più accaniti giganti che diedero l'assalto al cielo. Le braccia con cui fece violenza, come vedi incatenate, non si sono più mosse. Tu vedrai Anteo qui vicino, che parla ed è sciolto da catene e sarà proprio lui a porci nel fondo dell'inferno, il fondo di ogni colpa. Quello che vuoi vedere tu è molto più in là ed è legato e non ha a cento braccia ed è fatto come Fialte, però in faccia è ancora più feroce. Non ci fu mai terremoto tanto forte che scuotesse una torre così fortemente, come fu tremendo e rapido a scuotersi Fialte, quando Virgilio, accennando alla maggior ferocia di Briareo, scatenò la sua ira. Allora io temetti davvero la morte più che mai, e sarebbe bastata quella sola paura per farmi morire se non avessi visto le catene che legavano quel gigante. Noi quindi procedemmo oltre ed arrivammo, come aveva pronunciato Virgilio, ad Anteo, gigante che non era incatenato perché non partecipò alla guerra contro il cielo. Anteo usciva dall'enorme pozzo Cinque Alle e Virgilio, ad Ulandolo, gli disse queste parole. O tu, che uccidesti e divorasti un gran numero di leoni nella fortunata valle del fiume Bagrada in Africa, presso Zama, che vide la vittoria di Scipione quando dovette fuggire e che per la tua forza, se tu avessi combattuto con gli altri giganti contro gli dèi, certamente avresti consentito la vittoria dei giganti. Non rifiutare di metterci entrambi giù in fondo, dove il grande freddo fa gelare le acque del Cocito. Non spingerci ad andare da Tizio, altro gigante come te, fulminato da Apollo, oppure da Tifeo, che dopo essere stato fulminato da Giove fu sepolto nell'Etna. Questi che qui con me è Dante, ed egli può regalare quello che qui si desidera molto, cioè fama e ricordo a chi lo aiuti qua giù. Abbassati e non torcere il volto sdegnato. Lui potrà renderti ancora fama nel mondo, poiché egli vive ancora e lo aspetta ancora lunga vita sulla terra, se, anzi tempo, il destino non vorrà chiamarlo a sé. Così, disse il mio maestro, ed Anteo, in fretta, distese le mani, e prese con quelle mani di cui Ercole già ebbe modo di sentire la forza, il mio duca Virgilio. Quando si sentì afferrare, mi disse, Presto! Avvicinati e fatti prendere! Poi Anteo ci strinse entrambi come un solo fascio. Come per un'illusione ottica, sembra che la torre Garisenda si pieghi verso chi la guarda dalla parte da cui essa pende, quando una nuvola le venga incontro e si muova nella direzione opposta alla sua pendenza. Così sembrò Anteo a me, che stavo aspettando di vederlo chinare, e fu però proprio in quel momento che io avrei voluto andare per un'altra strada. Ma il gigante Anteo, dolcemente, ci posò sul fondo dell'enorme pozzo infernale, dove sono tormentati insieme Lucifero, il più grande dei diavoli, e Giuda, il più grande dei peccatori e dei traditori. Ne rimase Anteo fermo, bensì subito si drizzò, e parve l'albero di una grande nave.